Nel centro di Taranto, in via Oberdan 16, Filippo Pizza e Pollo, take away che punta su pollo e pizza di qualità, con lievitazione di 24 ore. Ecco le nostre specialità! Tanti tipi di focaccia Pomodoro Pomodoro e mozzarella Barese Diavola e rustica Focaccia con insalata, cotto e maionese Panzerotti, fritti e al forno Arancini Crocchettoni Porcellini Pucce Patatine fritte Polletti fritti Pollo allo spiedo Birre e bevande di marca Servizio a domicilio, buffet e catering La genuinità dei nostri prodotti, abbinata alla qualità e alla convenienza Filippo Pizza e Pollo ti aspetta! Sapremo prenderti per la gola!